Cambiamo argomento, azzerata l'addizionale IRPEF per i redditi fino a 15.000 euro. I tagli nella finanziaria provinciale colpiranno anche il personale, 550 amministrativi in meno nei prossimi 5 anni. Vediamo. La giunta provinciale di Bolzano ha fissato i tagli da apportare alla bilancio che ammonta 5,22 miliardi di euro nel quadro delle misure di contenimento della spesa che prevede una riduzione del 6% per gran parte dei capitoli. È stata azzerata l'addizionale IRPEF per i redditi fino a 15.000 euro. Per compensare il minore introito, l'IRAP su manche e assicurazioni passa però dal 2,9 al 4,8%. Secondo le leggi nazionali avremo la possibilità di applicare un addizionale per l'IRPEF fino all'1,4%. Noi fino adesso eravamo sul 0,9%. Abbiamo detto che per la prima fascia, cioè fino a 15.000 reddito all'anno, vogliamo azzerare l'IRPEF, cioè portarlo a zero. Naturalmente dobbiamo trovare anche i fondi. I fondi li troviamo aumentando l'IRAP per gli istituti bancari e anche per le assicurazioni. Così possiamo venire incontro un po' a 93.000 persone, di queste circa il 75% dipendenti o pensionati. Il calo maggiore lo subisce l'ufficio di presidenza con un meno 7% e un 15% e meno per quanto riguarda le indennità. Ma sono previsti anche altri tagli, compresi quelli degli organici dell'amministrazione provinciale. Abbiamo detto che dobbiamo garantire il patto di stabilità e questo lo dobbiamo fare prima di tutto riducendo certi importi. Per esempio dobbiamo ridurre gli importi per le consulenze, incarichi del 20%, per le trasferte del personale su livello provinciale 50% o anche contratti COCO 20%. Vuol dire che dobbiamo risparmiare in questi settori e dobbiamo ridurre anche il personale. Nei prossimi 5 anni, 550 unità. Grazie.